c'è Fabrizio Moro sulle onde funky ciao Fabrizio che bello ritrovarti anche se siamo in dad ma è sempre bello ritrovarti eccolo grazie io sto molto bene tu che hai dei figli Fabrizio dovresti conoscere bene il fenomeno della dad e com'è andata ne siete usciti vivi no io no purtroppo purtroppo ho tormentato anche loro con questa dad perché la mattina ogni tanto accadeva che i ragazzi dormivano a casa mia e mi venivano a svegliare le otto io siccome vado a letto alle cinque alle quattro ogni ogni volta che c'era questa dad cercavo di connettermi al primo problema dalla prima interferenza chiudeva il portale e mi metteva a letto ragazzi stamattina stamattina si fa festa col papà eh vabbè meno male che dai mi sembra che ci si stia avviando è successo anche delle volte che mio figlio libero che adesso è grande a 12 anni e apriva il portale io mi rimettevo a letto fidandomi insomma della sua coscienza e poi puntualmente dopo un quarto d'ora si appoggiava sulla playstation e la professoressa continuava a parlare da sola lì in dad io mi alzavo per spiarlo prima di addormentarmi definitivamente e trovo lui da una parte era dando un'altra per fortuna fabrizio sembra che ci si stiamo avviando all'uscita insomma si vede almeno la luce fuori da da quel famoso tunnel senti intanto sì perdonami che volevo fare un saluto che non abbiamo fatto all'inizio agli amici di london one radio che in questo momento eh ci guardano e ci ascoltano per cui siamo sulle onde funky ma abbiamo esportato le onde funky anche in UK è una cosa che che mi piace sempre molto detto questo allora la dad ha un po' salvato insomma la nostra vita ma la cosa che ce l'ha salvata davvero è l'amore mi sembra che sei tu la canzone che finalmente questa sera ascolteranno tutti eh dà un po' questo questo senso no questa eh rinnova questa forza vitale dell'amore dei rapporti importanti beh quello che quello che 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 mi è accaduto comunque in questi due anni lontano dal palco dove insomma sai che benissimo è per un musicista andare incontro a questa a questa tipologia di situazione insomma molto abbastanza drammatico e quindi la pandemia ha fatto uscire insomma tanta verità verità che io anche essendo una persona molto introversa nascondevo dentro di me no eh verità sugli affetti cioè mh ci siamo dovuti comunque poi confrontare tra quattro mura con le persone in cui siamo abituati a vivere da sempre e sono uscite poi delle cose delle parole delle sensazioni delle delle condizioni che non erano uscite prima stretti lì dentro in quel perimetro eh in cui siamo stati insomma obbligati a stare e l'amore la l'energia più più forte che ho trovato che ho incontrato ed è l'unica l'unico disegno che che mi salvava ogni volta che alle cinque di mattina mi veniva a bussare l'angoscia no per svegliarmi e per ricordarmi che stava arrivando un altro giorno difficile no gli effetti bambini i miei amici più cari il mio amore è una verità molto semplice e può sembrare anche banale a volte no però io in questo momento a 46 anni non ho altre verità in tasca anche perché per la prima volta mi sono provato a scrivere una dedica d'amore dove ho dovuto mettere da parte la paura di farmi leggere dentro no prima le mie le mie le mie canzoni d'amore quelle quelle che ho scritto in passato insomma c'era sempre dentro un po' di tormento comunque raccontavo amori che in qualche modo erano finiti male in qualche modo erano finiti e invece qui c'è proprio un in questo testo c'è tanta gratitudine nei confronti della persona che mi ha salvato dalla parte più brutta di me e tra l'altro eh Fabrizio sei tu sì è la canzone che ascolteremo questa sera ma poi fra qualche ora avremo anche eh la mia voce avremo tutto insomma il tuo nuovo lavoro e e pensando alla tua voce proprio nel tuo caso specifico Fabrizio quella voce lì è come se fosse collegata direttamente con i tuoi sentimenti interni no cioè tu hai sempre eh fatto uscire con la tua voce il dolore lo sgomento la felicità la malinconia non sei mai riuscito a nasconderle le cose no eh fino in fondo proprio grazie a quella voce ho imparato che poi quella voce è stata tradotta nel tempo da da una penna ho imparato a scrivere tutto quello che mi portava dolore e quello che mi portava gioia e ho imparato un po' meno a comunicare verbalmente ma la penna e il foglio di carta comunque sono state due due cose che nella vita mi hanno salvato io dico sempre che fare il musicista è un po' il mio secondo lavoro il mio primo lavoro lo scrittore perché ho scritto tante canzoni che non ho mai ancora prodotto ho scritto dei film che non ho ancora girato ho scritto dei libri che non ho pubblicato perché da quando avevo 12 anni insomma ho imparato a esprimere me stesso attraverso questa voce interiore che la mia penna poi ha tradotto è un mezzo che a cui mi sono diciamo affiancato e qui mi sono affidato per tutta la mia vita e vedi anche in questi due anni in cui sono stato contato dal palco comunque per uno come ho detto prima che vive da bracci di contatto col pubblico non è il massimo dell'aspirazione anzi è una cosa veramente brutta e violenta se non ci fosse stata la scrittura sarebbe stato insomma più brutta di quello che già è stato e ho scritto questo film questa sceneggiatura stavo dicendo questo ghiaccio di cui appunto volevo parlare Fabrizio tu alla fine il protagonista di ghiaccio viene salvato dalla box tu invece in fondo sei stato salvato dalla scrittura si può dire sì è un po' il mio il mio bugilato un po' come stasera magari il parco dell'aristone un po' il mio ring ring non prendi dei cazzotti insomma nel senso fisico pratico proprio però ne prendi magari altri dal punto di vista emotivo addirittura più male e la box è una metafora che c'è nel film in realtà il personaggio musicale che ha salvato l'amore secondo me è un film che parla di due bugi che parla di una grandissima amicizia ma fondamentalmente fondamentalmente parla d'amore un amore che non è solo quello istituzionale fra un uomo e una donna ma l'amore che ognuno può provare del suo piccolo grande emisfero amore che per un amico amore per se stesso amore per uno sport in questo caso amore per un per tutto quello che ci circonda e è un momento molto complicato un momento molto complicato e io spero che questo festival perché tanti due colleghi hanno detto perché tornare al festival dopo averlo vinto possa possa segnare definitivamente comunque possa tirare una linea maniera di chiusura a questo periodo di merda e che l'augurio è l'augurio più grande che faccio a me stesso eh a tutti i miei colleghi a quelli che sono qui a quelli che non ci sono è quello di poter tornare a suonare senza restrizioni e nella insomma nel benessere e nella forma che abbiamo messo tra parentesi in questi due anni. Guarda gli ascolti di ieri sera Fabrizio ti danno ragione anche a livello voglio dire di voglia del del pubblico no di di seguire un festival che appunto possa essere tracciare questa linea di demarcazione quindi capisco perché ci sei nonostante l'ultima volta tu lo abbia vinto mi sembra giusto comunque esserci e anche per dire che sta uscendo insomma un disco nuovo e che ci saranno canzoni di Fabrizio Moro eh nuove proprio nel giro di di pochissime ore tu sei uscirà il quattro febbraio la mia voce che è la prima parte di un di un album un EP di sei canzoni e non c'era l'idea di venire al festival fino alla fine di quest'estate poi ho incontrato a Matteo se è nata questa canzone eh ed eccomi qui però non ho fatto poi in tempo a chiudere tutti i progetti su cui stavo lavorando perché c'è come abbiamo detto prima c'era un film che era ancora in fase di montaggio un album che stavo scrivendo insomma diverse cose da da affrontare ho preferito insomma chiudere la prima metà a febbraio la seconda metà uscita a fino ottobre per lanciare poi un nuovo pur Fabrizio io ti ringrazio davvero tanto saluto te saluto gli amici che ci stanno ascoltando gli italiani di London One Radio e stasera voterà ancora la sala stampa e quindi avviso i nostri ascoltatori ma anche gli spettatori di prepararsi a una canzone intensa e degna dell'intensità insomma di Fabrizio grazie ciao ciao ciao